ciao ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video di microvolts oggi siamo qui insieme a tommy ciao a tutti ragazzi merda ecco facciamo questo episodio sul cap to the battery nella città lì tommy appena incominciato però diciamo che abbastanza bravo forse io ti posto o guarda questo qualche cazzo va scatti come di matteo ma che mostra perdendo c'è sono appena entrata stiamo già partendo ti sto stuprando è uno ho fatto poi sottato uno e ho ucciso te colpito una volta sono io che ti ho ammazzato quanto cazzo ci vuole respawnare è un bel po merda ok ci sono ragazzi stiamo perdendo se qua manca solo un punto se la partita finisce subito tranquilli ragazzi attacchiamo un altro magari un uno contro uno oppure un'altra cosa merda 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 che strage merda merda oh mio dio oh mio dio che cazzo è oh mio dio lo zio sam è tra di noi lo zio sam chi è quella puttana là sotto? ok l'ho presa ok ragazzi qua c'è la terza guerra mondiale sì concordo c'è ma ci sono anche ragazzi ci sono anche c'è anche gente nel nostro spawn ma questo qua sei tu figlio di tu trocola ah lol mi hai ucciso con la sciavo mi stai scherzando ah 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 epic kill for the win anch'io voglio la troll face la troll face eccole qua ragazzi godete no per cazzo lol mi raccomando ragazzi non fate di te che su quel momento di mezzo di miei episodi immagino quanta gente se le farà vedi ciò che scrivi oh mio dio 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 che cazzo ho ucciso non ne ho idea ma mi stanno tipo sciottando da tutte le parti ok ho ucciso tutti sì siamo a un punto oh mio dio oh mio dio molti kill attenzione come è multi kill ho fatto 3 kill io porca miseria ti ho scioltato io oh mio dio che abbiamo tipo stupra oh mio dio che cazzo è che cazzo è ammazzato ammazzato dove c'è le mutande le mutande penties oh che cazzo ah ma noi stavamo vincendo 2 a 0 lol che testo è di cazzo qualca miseria lol lo zio Sam colpisce ancora ok io ti vedo qualcuno là sopra che ora creperà malissimo ragazzi non fatevi lasciare le persone su queste cose che fanno sul mutande sì abbiamo morti 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 ragazzi vi attacchiamo un'altra dopo sono entrato eccoci ragazzi uno uno in questo ok io ci sono siamo qui in un team deathmatch sulla beatmap ma fa la mia mia preferita ragazzi quindi anche la mia la gioca merda ok scusate un attimo se il lag e roma ragazzi uno ah ma qua non ho mica abilitato tutte le armi cioè proprio abilitato tutte le armi bravo cazzo ok dovendo fare a 100 ci sono messe abbastanza ma l'accio nice shot nice shot anche io buona 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 siamo sempre in team diversi io in un'unione che perché? ok eh sì mamma merda ma c'è sempre questa qua che mi sta shottando ragazzi c'è ancora la terza guerra mondiale no da notare da notare sì oddio ho tuttissima vita ma come ma l'ornet è fortissimo oh no sono un coglione sei morto? suicide ah ho visto lol 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 ragazzi non fate mai questo tipo sto laggando un casino headshot viat merda io adoro quest'arma l'ornet la adoro adoro quanto spara colpi double kill oh dio oddio 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 ma perché? oh mio dio mi è arrivato un missile in culo ehm oh ok se proprio ti piace dimmelo che c'è prendo troppe dimenti chiamo il mio avvocato distanze di sicurezza e no e via no merda ma c'è uno con la skin di un coglione che mi sta tipo shottando da tutte le parti assist man ragazzi se qualcuno vuole un assist man porco sono il vostro uomo per l'assist man oh che guerra mondiale c'è qua ah io non capisco più nulla sto laggando come una oh mio dio oh mio dio che cazzo è? sto laggando come un ciclamino avariato bravo che casotto io sto sparando con l'orde ta cazzo io so solo che sono morte oh mio dio merda che figlio di puttana 66666 si nice shot ma io ti ho mai shottato no? quanti tu sei? si ah ho due porco eh ma che casino è non ne ho idea neanche io tranquillo ma cazzo ma non muore la gente quanta vita ha io che ne so tutti pronti gioco eh ma dai bam 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 che cazzo si vabbè questo qua cosa? forcefield si ma che cacchio è mi puoi pisciare dietro? vabbè vabbè eh putt te l'ho detto io sono attenzione lui in volo tiro colpa a cazzo e uccide tu ti ho mattato io in volo ma ti svegliare o spawnare brutta cogliona oh poveretto no esco da anche lei per la sua vita orco can ma quanta gente c'è ho ucciso io no non ti ho ucciso no per niente però questa hornet è fortissima soprattutto potenziata come ce l'ho io no merca che occhio è vediamo un attimo eeeh bichk 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 attenzione la bichk ma non so mica la gambe io ma levati gay che che ha scritto gay gay? tua madre che hai iscriviti no è un po' vero che vinci l'america e quindici minuti va sei veramente scemo anche te no ma almeno metti 50 e vabbè 30 minuti vabbè ragazzi questo l'ultima partita non capito che dovrà 15 minuti perderai vita tu porca miseria no ahim immortal si e beh poi ne ho poco forse mi dicevano come dici te alla vecchia maniera oh cazzo bichk bichk sono a 37 di vita io mi suicido ciao ah hai poca vita avevo uno di vita io 37 dimmi te what 37 bichk ragazzi scrivete nei commenti tommy a kerone eh e riceverete in regalo la moglietta di tommy a kerone ma che cazzo poco forse mi dicevano troppo divertente amico e amico amico e amico che cazzo amico cerco famiglia cerco famiglia ammazzo la bottiglia cerco famiglia ti stupro la madre ma va fa culo ci colpiamo in volo vai boom ma dai headshot bichk fai fai un pvp vai vai saltiamo saltiamo il mio 3 e facciamo ci colpiamo in aria ok 3 2 2 1 salta aspetta ho sbagliato come cazzo ma salta coglione è la sposa mancata va vaffanculo vai 3 aspetta devo arrivarci questa puttana è lenta 3 2 1 vai lol ok torno alla pedana un momento è troppo divertente che cazzo fai ti stupro la madre ammazzo voi 3 2 1 eh vabbè ma come poco aimbot mi diceva avevo tutta la vita poco aimbot mi dicevano oh mio dio torna giù poco aimbot mi dicevano tipo io c'ho il mouse aimbot quindi fa si spara 5 colpi a cliccata vai 3 vai 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 ma cazzo ma sei un figlio di puttana ahahahah lol vai salta mi chiamavano figlio di puttana salta testa di pene omge omge zucchio ma tu non tu l'hai ricaricato o no? no vaffanculo allora 3 2 1 fap no 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 e cosa è successo Tommy? sorry mi ero mutato il microfono dal telecomandino di tua madre ah ok tranquillo hai rotto il cazzo devi saltare e basta ma tu mi stavi mirando la tua madre è poco ti ho visto uno via ma vaffanculo no sono sopravvissuto in qualche maniera strana come cazzo hai fatto salta ahah buccia falce mi dicevano io anche rare aspetta Biacic 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 Cioè Poco a imbott mi dicevano Hard trolling Ma figlio di puttana Io so tutto Ignottoso essere inutile Salta al mio 3 Via Adesso ti banno Banno dal gioco Tu sei saltato Ma indietro Vai vai salta Ah sei giù tu Si no io son qua Poco a imbott mi dicevano Troll Ma qua imbott Ma sei ancora su Vieni a prendermi amore Ma che ti ho visto sai Che cazzo Ma non ho perché son no ma che cazzo Hard trolling Ma che cazzo è successo Ma che cazzo Amore Donato Vieni salta Pene di me Ti faccio saltare io Oh mio dio Mi dicevano Ma che imbott Salta 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 Porco tisi Dai resta giù Prova a colpirmi in volo Tu resta lì Ma non ero pronto Vai riprova Eh va fam va Ma no devi stare Guarda ti faccio vedere Fermo Devi stare qua 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 sulla pedana Devi stare là sulla pedana Eh aspetta Scusa Devo cambiare arma Ok ragazzi Ho vinto Grazie per la visione Ciao a tutti